Sì, sì. Cercherò di farvi usare un esempio di un comune che è partito virtuoso, poi si è perso per strada, ma come esempio di cosa si può fare, non è tutto tarato su Pisa ovviamente, ma quello che si può fare comunque con due basi secondo me di fondo. Uno si può fare tantissimo e anche senza grandi risorse, a volte anche senza soldi. Serve una volontà politica prima di tutto e serve un apparato tecnico che venga dietro e qualche poi consulente, qualcuno che, perché i tecnici comunali per quanto bravi non possono essere esaustivi su tutte le risorse, ma quindi si cerchi poi qualcuno che sappia interpretare bene queste volontà. Se ci sono, si fanno delle cose e quando manca anche solo una delle due, normalmente i risultati non ci sono o sono molto inferiori a quello che potrebbero essere. Questa è un po' la prima base. Vado io? Oh, perfetto. Allora, il caso che porto per me sarà un sottofondo per… Ah, perché sono doppiati. Ho capito. Sì, sì. Non ho capito la cosa. Allora, il caso che porto è la città di Avigliana. Avigliana è un comune di 12.000 abitanti, 30 chilometri da Torino, più o meno, neanche, che è un po' una via di mezzo. Ha delle parti naturali e delle parti industriali. Ha qualcosa di eccellenza. Aveva il cantile dell'Azimut, Barchiavela, Lusso, eccetera. C'è stato un tentativo, ecco, in comune Notav, questo gli ha segato tutta una serie di cose, ma è avuto una serie di amministrazioni molto lungimiranti, proprio a livello sindaco, assessori, eccetera, e un dirigente che si chiama Aldo Blandino, che in quel momento lì ha fatto molto perché ci credeva proprio, un appassionato. E quindi si è trovato in una condizione molto interessante. Io all'epoca, ecco qua, 20 chilometri, non 30, 11.900 abitanti, e cercavo di avere un bilanciamento tra quello che è un'industria e anche un turismo ambientale. Io all'epoca collaboravo con l'Agenzia Energia e Ambiente di Torino, l'agenzia SAVE della Commissione Europea, che poi le giunte, posso dirlo, io parlo liberamente, le giunte di centro-sinistra hanno zoppato quasi all'inizio e i Cinque Stelle hanno chiuso con l'ultima legislatura, dicendo che tanto non servono come discorso. Benissimo. Questo tecnico, io ho fatto dei corsi, mi ha chiamato come agenzia, poi ho collaborato con lui alla stesura di quello che è il piano energetico, a Vigliane è stato il primo comune d'Italia che ha prodotto il piano energetico, poi se ne è parlato pochissimo perché essendo notav non l'ho mai invitata a parlare in provincia, ad altre parti, ma io mi sono trovato la vita facile. Cos'è il piano di azione per l'energia? Voi lo sapete, il patto dei sindaci? Tutti lo sanno? No, allora, è stata una furbata della Commissione Europea che ha detto che per poter andare avanti ad ottenere risultati energetici dobbiamo avere un approccio anche bottom up e non solo top down, come si dice, bisogna coinvolgere la base. Le città sono sicuramente parte in causa, il ragionamento è stato interessantissimo, le ingaggiamo nell'ottenere risultati di efficienza energetica, risparmio di CO2, rinnovabili e così abbiamo qualcuno che lavora sul territorio. L'obiettivo era di raggiungere con le città gli stessi obiettivi del 2020-2020, l'iniziativa 2020-2020 della Commissione Europea, quindi arrivare al 2020, chi se lo ricorda, con il 20% di risparmio energetico, 20% di rinnovabili e 20% di riduzione del CO2 e si è detto, benissimo, anche le città le portiamo in questa direzione. Questo anche perché, molto logicamente, il 50% di emissioni di gas serra in Europa è dovuto alla città, l'80% della popolazione vive dentro la città e consuma lì l'energia e le autorità riescono molto meglio a dialogare con le persone, le autorità cittadine, che a livello nazionale. Sono accorti le norme nazionali, sono sempre molto distanti, come discorso. Fin lì il ragionamento era perfetto. La furbata cos'è? È che si è detto, benissimo, ingaggiamo i sindaci con questa covenant of major, patto dei sindaci, che è un accordo volontario, quindi la Commissione Europea non caccia una lira, i governi nazionali non cacciano una lira e i sindaci, con la bacchetta magica, per avere il loro bollino si dando a fare per. Questa cosa qui è comunque partita. La base di fondo è di fare un piano d'azione sull'energia, sostenibile, poi c'è un aggiunto sostenibile. I piano d'azione sull'energia sono interessanti come strumenti perché si è passati a una pianificazione più teorica, a una pianificazione per azioni, che dovrebbe arrivare a definire azioni, che significa cosa faccio, con che soldi, con che risorse, chi segue l'azione, con che obiettivi, con che step, eccetera. Quindi faccio già una prefattibilità, che è diverso da dire risparmiamo e basta, come discorso. Gli hanno aggiunto questo ed è in effetti una cosa interessante, perché i comuni, come tutti gli enti pubblici e anche privati in Italia, devo dire, non sono abituati a pianificare. Cosa si fa? Ma c'è un finanziamento per una scuola e facciamo una scuola. E facciamo un ponte. Perché? Boh, c'erano i soldi e li facciamo. Pianificare significa iniziare a capire. Anche politicamente significa che da qui vorrei arrivare là, poi qualcuno può dirmi, no, io cambio il percorso, ma dovrebbe giustificare, teoricamente, ai cittadini perché cambia e perché ha deciso e su quei risultati vuole arrivare. Se non c'è nessun piano, non c'è niente, nessuno sa la direzione, nessuno sa niente, è anche difficile cercare di capire cosa succede. Quindi io sono un grosso sostenitore della pianificazione in questo senso, quando è operativa, non è soltanto teorica. Ci sono saltati dentro, soprattutto l'Italia, la Spagna e il Portogallo, come vedete, sono dati vecchi, ma questo dieci anni fa, perché qualcuno ha fatto nel pubblicizzarlo, ha detto, ma arrivano i soldi. Allora voi sapete che un comune italiano dice, fai questo, mettiti così, ti arrivano i soldi e si fa. Non sono arrivati in questo senso, sono serviti a qualche cosa, però erano un buono strumento. Il Avigliana, il titolo era Cambiare per conservare, quindi cambiamo per conservare un discorso ambientale e tutto. Io ho trovato una pappa facile, perché essendo questa amministrazione già in carica da quattro anni, è stata poi rinnovata con questo funzionario, avevamo già fatto un buco di roba. In parte li ho poi seguiti su alcune cose, ma ho raccolto anche un'eredità che era già pronta, per quello che sono stati i primi, perché c'era già un terreno facile. Abbiamo fatto un patto, un piano che prevedeva di arrivare al 20%, non di più, appena al limite, perché è già ambiziosissimo. Anche perché per arrivare a questi risultati, considerando che uno dovrebbe risparmiare, qua ve lo faccio vedere, a livello di grafico si capisce meglio, per arrivare a questo 20%, perché queste sono le riduzioni, 41% di riduzione sul pubblico, 21% sul privato, 22% sul terziario, 22% sull'industria e 9% dei trasporti. Considerando che nei trasporti si considerava soltanto quelli locali, cioè i flussi all'interno, ovviamente non interviene né sui treni, né sui trasporti merci, né sul pendolarismo, non come comune. Quali sono gli interventi che fai che sono in mano a te come i comuni, non quelli che devi fare con altri livelli, perché non puoi scommettere su quello. Il problema cos'è? Il 41% sul comune, dici, io ho tantissimo, è tantissimo, mi faccio vedere che si è fatto e si può fare, anche senza soldi. Il 21% senza soldi sul privato richiede un grosso sforzo, non è infatti non fattibile, ma richiede un grosso sforzo di comunicazione, di assistenza, di tante cose, anche il terziario o altro. Quindi quella è la partita che poi si è persa, perché poi quando politicamente cambiano le giunte, anche rimanendo al suo colore, magari per qualche altro motivo, fanno fuori il dirigente, eccetera, a quel punto lì poi ti siedi e lì rimani. Per dirla così. Allora, scusate un'altra, ecco così, vi passerò in carrellata, poi se vogliamo vederli, io adesso taglio, perché i tempi sono brevi. Però la partita pubblico, quindi quello che interessa è quello che può fare il comune, prevedeva otto azioni, in realtà poi nove, nel senso che c'era un EMAS che tra l'altro il comune aveva già impostato, non visto come strumento che dà risparmio in sé, ma come strumento che permette di avere, l'unica cosa che saranno queste cose tipo EMAS e ISO se fatte bene, ti danno dei dati. I comuni normalmente italiani non sanno bene dove spendono energia, quanto consumano, cosa fanno. Ci sono dei dati che specie all'epoca, dieci anni fa, mancavano. Quindi se non hai dei dati non puoi fare neanche delle politiche, perché su che base ti basi. Un protocollo APE che è Green Public Procurement, ossia acquisti verdi ecologici, che anche qui non ha delle ricadute complete energetiche, sono ricadute ambientali e anche in parte energetiche, ma sono propedeutiche, perché se tu abiti in un comune a fare delle riflessioni, quando compra qualcosa che sia a basso impatto, c'è una componente energetica e c'è una componente ambientale. Quella energetica non sempre è così forte rispetto ad altre, ma cambia già una rotta. Poi c'erano discorsi di efficienza sul settore di climatizzazione e quindi impianti termici. Un'altra azione sul retrofi degli edifici, quindi efficienza energetica intesa come involucro, riduzione della dispersione degli edifici. Un discorso Green Light è un progetto europeo interessante che diceva attua tutte le misure che ti permettono di ridurre i consumi di illuminazione in cinque anni, quindi sono diciamo bancabili fondamentalmente. Un risparmio con i consumi idrici, perché non dimentichiamoci che dietro ogni litro di acqua c'è un pompaggio e i pompaggi prevedono un buco di energia, sono delle fonti maggiori di spesa, di consumo, non solo di spesa. Quindi il fatto di risparmiare acqua si traduce anche a risparmiare energia. Poi un'efficienza dell'illuminazione pubblica, un risparmio di altri consumi idrici è un'altra partita, non vi sto a spiegare che il comune comunque aveva e il fotovoltaico l'abbiamo aggiunto dopo sui edifici pubblici, all'epoca non c'erano le possibilità e non c'erano dei risorsi economiche e poi si sono create, vi spiegherò poi come, e il comune ha sfruttato anche quello. Tutte queste cose il comune di Avigliana, almeno tutto quello che riguarda l'efficienza, quello in rosso soprattutto, quelle tre in rosso le ha fatte a costo zero e nel giro di due anni. Quindi non ci siamo trovati due anni dopo con i risultati. Poi se volete qui ci sono le altre azioni quindi anche sull'esidenziale, anche sul terziario, sull'industriale, sulla mobilità ne possiamo parlare poi se c'è l'inchiesta. Il comune aveva tre edifici, non è ovviamente Pisa quindi parliamo di un comune proporzionale di cui sotto il palazzo comunale una parte edifici scolastici, tre edifici per attività sociali, una stazione di pulizia urbana, 60.000 metri cubi di edifici. Abbiamo poi messo assieme le due azioni perché ci sono edifici storici se qualcosa ancora del 300, c'è qualcosa mediovale, il palazzo del comune ha delle basi medievali fino a cose fatte 20 anni fa, non di più. si era partito dicendo bene, facciamo che cosa? Vediamo di prendere in mano un retrofit effettivo quindi vediamo un po' tutto quello che c'è da fare, isolamento, soluzione delle vetrature, soluzione delle finestre, miglioramento del sistema di riscaldamento, acqua calda solare per le palestre, controllo di distanza e governance perché anche qui è molto importante poi sapere cosa stai consumando, quando, chi e come perché se no poi ti trovi dei consumi e non sai chi imputarli. Ebbene che se un dirigente scolastico chiede che si scaldi la palestra perché fa un evento quello bellissimo registrato perché se no alla fine ti dice ma come mai abbiamo consumato di più? Magari è giustificato o magari no. Per esempio molte associazioni nei comuni che più capita hanno degli edifici comunali ma non hanno e sono forfettari e non hanno responsabilità sui consumi quindi il fatto che poi usino meno bene il termostato facciano delle cose non è un problema no è un problema io ti do gratis delle cose ma ti do dei plafoni magari di consumo se tu splafoni come associazione paghi perché comunque bisogna anche ingaggiare tutti gli utenti delle scuole ci sono fatte le cose interessanti in questo comune e in altri facendo delle gare nelle scuole sul discorso di risparmio maggiore perché una parte del risparmio è legato al spengo tengo aperto chiudo faccio delle cose se tu inizi a mettere un po' di competizione tra le scuole o altro hai dei risultati incredibili non con come dire col bastone si va di carota perché è molto molto più interessante che dire vi punisco vi faccio delle cose e quindi riesci a avere poi nasce anche una coscienza perché la fei nasce con un trick con un trucco di un certo tipo dopodiché diventa un elemento che poi si tramane cosa è stato fatto se non fate l'analisi voi qua l'avete poco ma comunque dalle analisi fatte quindi abbiamo fatto girare i programmi di calcolo anzi una cosa cosa è stata facciamo un bando di gestione calore il bando di gestione calore di pochi anni perché non c'erano i dati sulla gestione calore quindi mi ha detto facciamo un bando di tre anni con quei tre anni chiediamo al gestore di mettere il misuratore di contacalorie sull'impianti e infrastrutturale diciamo per raccolta dati gli chiediamo di fare le diangio degli edifici all'interno del pacchetto dopo tre anni abbiamo i dati e i progetti a quel punto facciamo un bando molto più strutturato ma basato su dati reali non fai dei bandi fatti bene se non c'hai delle informazioni devi avere delle informazioni puntuali anche perché chi partecipa al bando ha interesse a fare il meno possibile per portarsi a casa di più se proprio lo paletti bene a quel punto lavora bene se glielo paletti male sfrutta i buchi che hai fatto cioè le leggi di mercato non è che sia questione di dire puoi avere anche il migliore se scopri che hai un buco lì se non è proprio un santo come si dice tendenzialmente lo sfrutterà abbiamo fatto queste verifiche abbiamo chiesto queste cose abbiamo scusate ho sbagliato io perché sono andato ho cliccato male ecco qua abbiamo fatto queste verifiche poi cosa è successo abbiamo fatto il bando in maniera abbastanza interessante avevo lavorato su creare un bando un po' così ha vinto poi un premio alla fiera compraverde a Padova ma c'è l'altro l'opportunità nel frattempo lo Stato ha permesso di trasformare certi tipi di bandi questo è un circuito di bandi direttamente in un un bando di energia che potesse durare più tempo incamerando gli interventi quindi quello che viene in termini tecnici è un finanziamento terzi io che ti gestisco l'energia ti dico ti faccio risparmiare con un investimento con quello che tu risparmi mi ripaghi l'investimento per un certo numero di anni dopodiché gli edifici a quel punto lì io esco dal bando quindi quel risparmio lì arriva a te qual è il tuo vantaggio che non spendi soldi non è esattamente la cosa migliore in assoluto la cosa migliore in assoluto è che se il comune avesse i soldi dice bene io ho quei soldi lì faccio un bando con quei dati ben strutturato quindi quel maggiore utile che ti porti a casa perché usi sistema bancario non c'è bisogno perché usi i miei soldi e quindi io ho un vantaggio maggiore il sistema economico dice ti do dei soldi ma non costo il comune di Avigliana è un comune virtuoso con un milione di euro di avanzo positivo ma il patto di stabilità mi diceva non lo tocchi aveva otto caldaie che stavano tirando le cuoia una serie di situazioni critiche ma non poteva toccare l'ira e allora abbiamo detto facciamo qualcosa io lavoravo già su queste tematiche che possa sopperire abbiamo trasformato il bando in questa questa cosa in un bando diverso ossia da fornitura calore con una certa serie di cose a sostanzialmente un finanziamento terzi il bando l'aveva vinto a Cofeli chissà cos'è Cofeli adesso è Glioss e su Esgas de France è l'eni francese in realtà devo dire questo noi avevamo spinto io avevo spinto per far partecipare delle piccole imprese che hanno sbagliato a fare i bandi hanno proprio hanno pertoppato ci sono andate due cose con degli errori si vedevano anche un errore non era stata una combina proprio un errore Cofeli però ha fatto un'offerta molto interessante il bando era ben palettato a quel punto era stupido che il comune dicesse non lo faccio perché è Cofeli perché il problema era usciamo dalle peste e facevano una cosa ben fatta ambientalmente e per il comune a quel punto lì cosa è successo questo era quello della partenza si partiva da un consumo di energia da questi termini tecnici 1699 megawatt all'anno dal 2010 al 2011 con un risparmio garantito dal 2012 al 2013 a 1206 quindi meno 29% di consumo energetico questa è la base della garanzia da dove derivava da quei conti energetici noi li avevamo anche palettati perché vabbè li ho fatto una serie di cose per cui li potremmo controllare una serie di dati una serie di cose per cui sapevamo anche che quei conti che facevano loro erano controllati anche da noi non abbiamo quasi controllato niente perché una volta che era chiaro che potevano essere controllati da gente competente abbiamo visto già delle cose che non stanno bleffando e quindi è andato bene quello che dicevo del finanziamento terzi è questa è la cosa base del contratto iniziale ossia un consumo di megawatt ore all'anno di 2182 megawatt ore all'anno 184 mila euro di consumo per il comune 59 mila di gestione più vabbè un discorso sulla sicurezza antincendi che deve essere messa totale 243 mila 900 euro all'anno di consumo di spesa nella nuova ipotesi si porta 1600 ho sbagliato sopra non era 1600 ho sbagliato i dati 1600 il consumo quindi si abbassa drasticamente la spesa per energia la spesa per gestione rimane più o meno simile ma a quel punto lì ci sono l'ammortamento dell'investimento 58 mila euro il risultato però per il comune è uguale per quello che ho dovuto fare questo passaggio il comune non ha versato un euro in più per il riscaldamento a fronte però degli interventi gli interventi sono stati fatti in alcuni casi ci sono per esempio in questo caso qua una scuola elementare hanno fatto un certo servizio una mensa interna abbiamo tolto due caldaie ne abbiamo messa una abbiamo fatto una serie di isolamenti sul sottotetto hanno fatto perché io sono seguito la partita diciamo il controllo non ero certamente io hanno tolto delle due caldaie in questo caso da 331 kilowatt da 355 una a metano una a gasolio per metterne una sola da 360 quindi si è dimezzato il potere per raggiungerci anche un edificio questo seguito dell'isolamento vedete i cinesi perché all'epoca facevo le lezioni ai funzionari cinesi in un programma di formazione con la eccetera e erano molto interessati perché sì loro hanno hanno Pechino ma hanno un buco di paesi piccoli in giro e quindi ci dicevano per noi è molto interessante vedere questo tipo di operazioni perché abbiamo tante realtà che voi non conoscete ma che sono molto piccole e quindi a noi interessa molto altre cose cappotti esterni passo veloce questo quindi con riqualificazione anche esterna in alcuni casi questa è una scuola storica non si è potuto fare granché di cappotto ovviamente ma il cambio della caldaia che addirittura per riduzione di potenza è stata messa fuori col cammino in rame perché la sovrintendenza ha voluto il cammino in rame essendo una cosa nel centro storico questo poi è stato fatto un discorso interessante di controllo remoto degli impianti per cui a quel punto il tecnico comunale aveva gli stessi dati del gestore sapeva momento per momento gli impianti in funzione quelli che avevano dei problemi e quelli che avevano dei problemi cosa che è molto importante perché tra l'altro per un tecnico significa che se ti chiamano la domenica mattina che c'è qualcosa che non funziona tu apri il tuo tablet vai a vedere sai cosa non funziona interagisci subito con il tecnico del manutentore e si interviene senza dover girare poi tre ore a cercare di capire quello che succede e questo vuol dire anche risparmio un discorso di governance per cui appunto tutte le richieste di maggior riscaldamento cambio di orario o altro venivano registrate autorizzate e facciamo parte di un database quindi se poi ci sono dei maggiori consumi sai anche perché e per come io ho fatto anche installare un contattore a gradigiorno nel comune di quelli certificati quindi il comune sapeva anche l'andamento delle temperature ogni anno e quindi poteva anche verificare anno in anno se riduzioni nei momenti di consumo dovuti a un discorso climatico dovuti a un discorso di gestione non sembra ma tutte queste cose ti cambiano molto il modo con cui vedi queste cose è il problema risultato ecco l'unica cosa per cui tutto autorizzato eccetera vantaggi collaterali riduzione delle avarie aumento del valore patrimoniale della città perché tu hai riqualificato gli edifici quindi la patrimoniale del comune ti permette di fare delle altre operazioni poi economiche riduzione dei costi di gestione perché se tu hai messo a posto queste cose qua le gestisci bene hai minori costi noi stavamo facendo anche un database per capire anche i costi manutentivi quindi sappiamo man mano potremmo sapere le manutenzioni cosa costavano e perché e quindi puoi fare delle scelte strategiche perché normalmente il comune non sa cosa gli costano le manutenzioni lui paga ogni tanto ma non sa le scelte cosa portano avere dei database su quello significa che tu sai che quel tipo di materiale o di cosa non funziona quello funziona quello quel problema miglioramento del comfort non da poco perché i dipendenti comunque spesso vivono in condizioni non esattamente di comfort è di esempio per i cittadini perché puoi raccontare ai cittadini che tu hai fatto le cose che funzionano di quel tipo lì e sei un esempio ecco la cosa che non c'è scritta qua la durata del contratto è stata di 30 anni che è stato un ostacolo non da poco perché nella testa dei nostri amministratori anche delle persone 30 anni mi vincolo allora ti risolvi i problemi per il contratto iniziale era fatto bene l'appalto quindi il comune ci guadagnava il prezzo dell'energia era vincolato all'aumento del prezzo medio dell'energia e tutto quindi non hai dei problemi da quel punto di vista il comune si è lasciato gli ho fatto mettere le mani libere di poter fare ulteriori interventi di efficienza e a quel punto chiedeva al gestore me li fai tu e trattiamo sulle parti o li faccio io mi incamero l'efficienza maggiore quindi il comune ha continuato e continua a poter prendere bandi per poter riqualificare il patrimonio e portarsi a casa maggiore l'investimento non c'è un'altra cosa che è interessante se voi fate durare pochi bandi il gestore sarà interessato a mettere dei macchinari che durano giusto la vita del bando perché devo spendere di più se il bando dura molto io devo mettere dei macchinari buoni perché se no rimango io col cerino quindi il comune si toglie un problema perché tanto quando finisce quel bando deve farne un altro e più fai un bando del genere se ci sono i macchinari vecchi con un nuovo gestore qualunque problema non esci fuori perché sarà del macchinario vecchio per uno e del gestore nuovo per l'altro provo ad andare in tribunale a dimostrare qualche cosa su chi è la colpa non ne uscite fuori se il gestore si tiene in mano questa cosa è un grosso punto di forza questo di questi finanziamenti terzi perché il gestore normalmente nei bandi pubblici il comune l'ente pubblico cosa fa? paga poi entrano i contenziosi non funziona si rompe eccetera i contenziosi significa che il comune va in causa causa legale lunghissime incerte ma intanto pagato in questo caso il gestore i soldi li caccia lui c'erano circa un milione c'erano circa 600 mila euro da cacciare su questi interventi l'ha fatto in un colpo solo perché in un anno si è riqualificato e il secondo anno c'erano gli effetti questi 100 mila li recuperano negli anni se però qualcosa non funziona il comune è sempre in posizione di impugnare il contratto e bloccare i pagamenti chi rimane senza soldi finché non c'è una ragione di causa? chi è intervenuto? è già un buon deterrente è chiaro che deve essere palettato bene seguito bene ma se si fa bene un'operazione del genere non interessa di nessuno fare il furbo noi abbiamo messo dietro un premio dicendo se poi si risparmia di più ed è dimostrato allora il risparmio maggiore viene gestito viene diviso poi in realtà a questi player interessa poco questa parte qua però si può arrivare anche a quello di dire guarda ti tiro una carota risparmia ancora di più perfetto facciamo a metà e quindi il gestore ha tutto interesse a seguire bene le cose abbiamo fatto una cosa analoga con l'illuminazione pubblica ci sono i bandi consip che sono stati fatti per quello anche lì hanno scluate luci e ombre ma se gestiti bene possono avere dei buoni risultati 2335 punti luce 996 della città 1200 di Enel Sole con un consumo di 1611 megavattola tra l'altro notate che il consumo di energia per illuminazione nei comuni è quasi uguale a questi qua è quasi uguale al consumo anzi uguale al consumo termico l'illuminazione pubblica italiana sta ammazzando con una cosa ve lo dico per il problema è che non è vero che più luce rende più sicura la città la città la rende sicura il controllo sociale tra i cittadini che chiamano se c'è un problema eccetera la maggior luce facilita il criminale che compie meglio il suo crimine ma non l'altro perché se il criminale è sacro può fare quello che vuole e nessuno lo guarda la luce non gli ne frega assolutamente niente non c'è nessun studio a livello internazionale che dimostra una correlazione certo la strada non deve essere buia ma c'è una visibilità che ti permette di dire una luce di vedere riconoscere un volto a 50 metri o 20 metri a quel punto lì è quello che serve non serve di più tutto il resto è per un discorso elettorale non ci sono non ci sono prove né scientifiche né di altro tipo però i comuni vogliono mettere a luce perché i cittadini premiano questa cosa dopodiché si spende un mucchio al di là dell'inquinamento luminoso gli effetti sull'ecosistema e tutto i consumi e casse che vanno per un qualcosa noi dovremmo poter arrivare a differenziare le strade man mano che la velocità si abbassa la luce per la normativa può essere abbassata e dopo le 10 di sera o mezzanotte in certi posti può essere ridotta veramente al minimo non è un problema abbiamo un codice della strada che dice che quando tu hai che non c'è tanta luce devi regolare la velocità non puoi dire io devo andare ai 90 all'ora non c'è luce e poi c'è l'incidente è colpa del comune che non ha illuminato questa fa parte di educazione civica si dice formazione se no siamo sempre sul fatto che è sempre colpa del comune che dovrebbe illuminare fare poi ci sono i consumi e via di se cosa abbiamo fatto 43% dei consumi nella città appunto a quel punto lì abbiamo fatto un piano di illuminazione pubblica non si è cambiato tutto perché abbiamo fatto una verifica del quadro per quadro rete per rete degli impianti ce n'erano alcune in buone condizioni altre in cattive non abbiamo fatto tutto a letto tutto subito perché non era sensato a livello economico a livello di strategie non era sensato si è intervenuto con 451 lampadine sostituite 300 cavi 27 controlli insomma con un intervento di risistemazione sempre in questa modalità esco per cui il comune non ha speso niente per cui si è fatto un retrofit un terzo della rete con 67.500 euro 18.500 di risparmio annuo 3,6 il tempo di risparmio di ritorno semplice quindi questi sono interventi che rientrano pochissimo in realtà il contratto anche qui l'abbiamo fatto di 9 anni perché a quel punto abbiamo chiesto nel sole e abbiamo avendo i dati avendo fatto una mappatura delle rete tutto quanto si è benissimo con la differenza con questi soldi che ti porti a casa che il comune se se li incamerasse vanno a fare attivo e non le può spendere per il patto dei sindaci il patto di stabilità con quegli interventi abbiamo fatto un piano di miglioramento della rete per rendere la rete di durata lunga di prestazioni migliori si dice benissimo noi facciamo questo contratto per 9 anni dopo 9 anni però il comune ha una rete riqualificata completamente non ha messo i soldi direttamente fa parte della spesa corrente e quindi il comune ha potuto portarsi a casa quest'altra partita in più c'è andata di fortuna in questo caso si può dire in modo diverso il gestore delle discariche che è un consorzio di comuni della Valsusa aveva bisogno di investire i capitali che arrivavano dalle tariffe perché il gestore ha poi 30 anni di gestione della discarica dopo che la discarica si è chiusa i soldi che prende li prende perché deve poi continuare a gestire ma il problema cos'è che se li metti in banca e all'epoca c'era comunque più inflazione quei soldi non ti bastano poi per gestirla per tutto il tempo che hai di contratto dove li metti per capitalizzarli che rendano fotovoltaico contro energia fantastico allora a quel punto ho detto metto gli impianti poi da buon gestore da buon come sempre faceva il furbo anche lui per cui gli abbiamo preso il contratto e in questo caso gli abbiamo fatto un controllo assieme a quello aveva anche un mio collega in ingegnere elettrico molto bravo gli abbiamo fatto un contratto soprattutto io l'ho fatto dal punto di vista di clausole e tutto quanto gli abbiamo detto no no vuoi farle le cose rivediamo il contratto risultato 233 kg di picco installati produzione annua totale di 285 questo è il consumo medio di energia elettrica del comune e quindi ne avanzava ancora da vendere alla rete il risultato di questa cosa qui è stato che il comune di Avigliana si è trovato con il 40% di consumi in meno reali e non farlocchi in due anni non ha messo una lira se non quella per pagare in questo caso l'agenzia con i consulenti su quelle quattro cose che ha fatto ma non ha dovuto investire e questa è stata la volontà politica non è stata altro oltre a un tecnico illuminato di seguito di queste cose se ne possono fare tante per cui il discorso è non è vero che non si fanno le cose perché non ci sono i soldi non si fanno perché non si può faccio una puntata e poi lascio al prossimo mobilità cittadina la cosa più semplice mette 30 all'ora tutti i quartieri 30 all'ora con le aste anche a 70 non c'è problema in Svizzera è così provate ad andare nelle cittadine svizzere Zug piuttosto che ci sono le piste ciclabili sugli assi di scorrimento lì servono entri nel quartiere c'è scritto 30 all'ora il cartello fine delle piste ciclabili biciclette in mezzo alla strada le auto devono per forza andare alla velocità delle biciclette perché c'è una massa critica critical mass si basa su quello tu metti abbastanza bici in giro i pedoni e le macchine non possono fare diversamente togli macchine e pedoni biciclette e pedoni le macchine vanno quanto costa pedonalizzare? pochissimo quanto costa fare le biciclette le piste ciclabili? un casino poi chiaramente ci sono appalti c'è un mucchio di roba quindi i comuni fanno poca roba ci mettono un mucchio di tempo un mucchio di soldi un palti se lo guardo dal punto di vista logico non serve non serve però è un atto politico è chiaro che poi sono delle discorse che bisogna avere un po' non mi piacciono le palle perché è un discorso maschilista bisogna avere un po' di forza un po' di coraggio mettiamolo così ci vuole del coraggio prendere le cose e affrontarle in maniera corretta se lo fai vi dico un esempio un esempio stupido ma io quando ero quando ero giovane all'università il comune di Torino ha pedonalizzato via Garibaldi che era una delle vie principali di Torino nel centro i commercianti hanno fatto un po' di casino dopo un anno se il comune avesse detto vi faccio passare le macchine i commercianti davano fuoco al palazzo comunale hanno avuto un risultato pazzesco è chiaro che a quel momento lì il sindaco di Gantt in Belgio ha deciso di pedonalizzare la piazza centrale e togliere i parcheggi dalla piazza della parte del centro storico mi hanno detto che per 4 anni è girato col giubbotto antiproiettile e una scorta dei vigili quindi Belgi non sto per dicendo adesso prova a dire agli abitanti di Gantt rimettiamo i parcheggi perché? perché ci sono delle cose che funzionano è chiaro che non devi fare dei provvedimenti sotto Natale se dici un commerciante ti blocco il traffico davanti sotto Natale eccetera devi farlo ma anche con un po' di cioè devi mettere dalla parte della controparte devi mediare ma devi farlo con un po' di di forza questa cosa qui se funziona poi ti viene dietro la città noi non abbiamo vi dico da Torino a qualunque c'è con cui ho lavorato sono rarissimi politici che dicono facciamo il sindaco di Venaus l'ex sindaco di Venaus ha bloccato un centro commerciale che dovevano fare lì perché dice no io non voglio quello ha bloccato le nuove costruzioni dicendo io incentivo con l'ione di urbanizzazione tolgo l'ione di urbanizzazione per intervenire sull'esistente e non faccio costruire ha cambiato direzione alla città al paesino sono 3.000 abitanti ma intanto 4 negozi nuovi e case vecchie che stavano cadendo rifatte hanno cambiato una situazione ma c'è voluto qualcuno che dicesse centro commerciale qui no chi se ne frega porto avanti un'altra linea la porto avanti coeso con il consiglio comunale la portiamo avanti spiegando agli abitanti dialogando con loro con i commercianti e i risultati si vedono la maggior parte è no perché poi dopo sotto lezioni basta grazie grazie grazie